ciao ragazzi e finalmente eccoci sotto l'alfilamoni ah guardate che spettacolo che bella 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 che spettacolo che bella che bella che bella siamo sotto questa immensa opera d'arte un po' di meno che la fila armonica diciamo quando ci siamo all'ingresso per ora è un po' stantesco perché che aria vedete qua il canale lascia il porto ed eccoci sotto questa maestosa costruzione è un po' di più 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 è un po' di più